ciao e bentornati sul mio canale youtube con questo nuovo tutorial su blender dove vi farò vedere come ho creato questi due mini vasetti e come li ho dipinti in procreate cioè ho dipinto le texture è un tutorial in timelapse con musica spero che apprezziate vedrete i procedimenti poi anche la scena finale con i nodi e le texture qualche scena in procreate dove dipingo le texture appunto troverete tutti i dettagli anche nella descrizione del video mi raccomando mettete un like al video iscrivetevi al canale se i miei tutorial vi piacciono con questo vi auguro buona visione ci vediamo al prossimo e seguite passo passo cosa succede in questo tutorial ciao 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 ciao